Sì, perché lui non può camminare. Per cui gli chiediamo insieme, glielo chiedo anch'io insieme a lei, insieme al suo marito, per tutti i cittadini che hanno bisogno di prestare un po' più di attenzione agli anziani e a quelli, soprattutto ai marciapiedi, di metterli a posto. Da là in fondo a qui ho fatto una vita, lì non si può andare perché ci sono le biciclette, ci sono tutti quei cubetti. Poi c'è l'attraversamento qui, la piazza non ne parliamo. In piazza non ne parliamo, e poi mi diceva prima che invece il suo marito è anche caduto. È caduto in piazza due volte, in piazza là. La ringrazio signora, così almeno lo facciamo presente che ci diano. Facciamo presente che almeno aggiustano qualcosa. Perfetto, grazie mille. Salve e buonasera. Buonasera. Buonasera.